Salve, il mio nome è Alfio Fisicano, sono nato a Lentini, provincia di Siracusa, nell'agosto del 1960. Mi sono trasferito a Roma, che avevo 20 anni, ho studiato fotografia, sono diventato un fotografo per tutti questi anni e poi ho deciso di studiare cinematografia e diventare un attore. Quindi ho frequentato la scuola di formazione, l'Accademia Artisti di Roma, ho fatto diverse masterclass con casting director, registi, attori e ho fatto qualche cortometraggio, ho partecipato anche a dei film con piccoli ruoli. La mia agenzia di rappresentanza è la Cantera di Roma e bene, le mie misure sono alto metro 63-64, peso 64 kg, è una taglia 46 e il resto potete vederlo qui sulla mia faccia. Bene, vi faccio vedere i miei profili e quindi le mie mani e vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona giornata. Grazie.